Finstra al Porte Finestre e Persiane, Colori di Tollens Bravo a Belluno e Edil Commercio a Vignole e Castion Belluno vi presentano questo programma. In collaborazione con CSA Consulenze Immobiliari a Belluno. Ragazzi, mi ha chiamato Cristiano di CSA Consulenze Immobiliari. Ha visto dei nostri progetti, gli sono piaciuti molto e vorrebbe una nostra consulenza. Ok, allora ci organizziamo per andare a vederla. Ok, andiamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao storico. Questo è l'appartamento che pensavo di mostrarvi, che peraltro è proprio qui vicino, quindi siamo anche comodi. Quindi forse facciamo prima andare a vederlo? Sì, quasi quasi. Andiamo a vederlo. Sono curioso. Sì, quasi quasi. Sì, quasi quasi. Sì, quasi quasi. Siete andati subito al pezzo forte. Questo salone è meraviglioso, grande, tra l'altro, considerando anche l'attacco del centro storico, siamo affacciati basso il sole, cosa piuttosto da queste parti. Ravimento bellissimo, superato solo dal soffitto, questa è una stanza veramente molto bella. È una palladiana originale, decorata, molto bella, rara. Poi oltre al salone abbiamo la cucina separata, qui si cambia, è un pochino più semplice ma in particolare modo è attrezzabile la misura. Alla nostra sinistra i due servizi, uno con la vasca e uno con la doccia, ma l'altra particolarità è che quindi alla parte notte abbiamo la travatura vista. Anche questo è molto bella. Questa è la camera principale, con una superficie più grande, sempre con l'affaccio su via Santa Croce e di confine un altro spazio da poter gestire come si riferisce. Un postiglio, una cabina armatica, sì. Sì, è spazioso perché in centro storico non è facile trovare pezzature di questa dimensione, poi definite anche con dei particolari molto belli. Gli spazi sono ben distribuiti, ora tocca a voi e ci proviamo. In collaborazione con CSA Consulenze Immobiliari a Belluno Vuoi promuovere la tua azienda in questo programma? Chiamalo 0437 94 20 88